Bentornati su Gossip Diva, nel video di oggi vi portiamo nel cuore dell'Italia, dove le due star di Hollywood, Zendaya e Tom Holland, sono state avvistate a Perugia, tra arte, moda e forse matrimonio. Dopo l'annuncio delle nozze imminenti fatto da People, la coppia è stata vista passeggiare tra le bellezze Umbre, ammirando le opere del Perugino e di Klimt alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Iscrivetevi al canale e supportateci con un like, grazie! I video rubati, ormai virali su TikTok, mostrano Zendaya e Tom mentre si confondono tra i turisti lungo il Corso Vannucci, con Tom leggermente infastidito dall'attenzione dei fan e Zendaya più rilassata. Ma cosa ci fanno davvero in Italia? Le speculazioni sono tante. Alcuni pensano che si tratti solo di una vacanza, ma i social sono convinti che ci sia di più. Zendaya è stata più volte vista indossare i capi del celebre brand Umbro Brunello Cucinelli e non è da escludere che la coppia abbia fatto una visita a Solomeo, quartier generale del marchio, magari per scegliere l'abito da sposa. Oppure potrebbe essere una tappa per cercare la location perfetta per il loro matrimonio da sogno. Zendaya e Tom, che si sono conosciuti sul set di Spider-Man nel 2017 e ufficialmente insieme dal 2021, sono diventati una delle coppie più amate del momento. E ora, con le voci di un matrimonio imminente, tutti gli occhi sono puntati su di loro. Scoprite con noi tutti i dettagli di questa fuga romantica in Italia e le ultime novità su questo possibile grande passo. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa storia d'amore che sta facendo sognare i fan di tutto il mondo.